... Che si fa al primo salto? Si gioca Si gioca Si gioca? A che si gioca? Faccia dei pirati Con la palla Con la palla Con i pirilli Ma ci si diverte? Si Quanto? Tanto A te che ti piace fare Stella? I pirati I pirati? Si E che si fa quando si fa i pirati? Si vede uno prende i tesori I tesori? E quali sono i tesori? Le palline piccole E i sinistini E i palloni E qual è la cosa che ti piace di più? Il gioco dei pesci Il gioco dei pesciolini? Si Ma vincete sempre voi? No Ogni tanto vinco anche io? Si Meno male E a te invece che ti piace fare? La stessa cosa Anche a te il gioco dei pesciolini? Si E quanto ti diverti a primo salto? 1300 1300 Qual è il tuo gioco preferito? Il gioco dei pesci Il gioco dei pesci? E com'è il gioco dei pesci? E che voi fate la rete E noi facciamo i pesciolini E noi facciamo i pesciolini? 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 Grazie a tutti.